Grazie! Allora il prossimo brano racconta il rapporto fra due persone che non hanno mai avuto il coraggio di guardarsi dentro e di dirsi le cose in faccia. E' un brano che esprime la difficoltà di una storia in cui spesso il silenzio vince sul dialogo, ma alla fine, come abbiamo detto, l'amore vince su tutto. Quindi ci sarà un dialogo, ci sarà un dialogo ovviamente, ci sarà un momento in cui ci si ritrova faccia a faccia e ci si dice tutto quello che serve per avere ovviamente un risvolto positivo. Di Fabrizio Moro dirige il maestro Peppe Vesicchio. Canta! Canta! Qualcuno è già partito e è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia, qualcuno si è sentito male per i troppi vizi, qualcuno ha perso la partita ma non ha subito i fischi. Qualcuno non ha mai provato amore nel suo vivere, oppure lo ha trovato ma non lo sa descrivere. No, tu non l'hai, tu non l'hai, tu non hai capito, no, tu non l'hai, tu non mi hai capito mai. E' finalmente il tuo rumore e il suo rumore non se ne va. Qualcuno è andato avanti e poi è tornato al quarto di partenza. Perché si è accorto in te, che non aveva l'esistenza, no, tu non l'hai, tu non l'hai, tu non l'hai capito, no, tu non l'hai, tu non mi hai capito mai. Finalmente il tuo rumore e il suo rumore non se ne va. Ma le mie parole le puoi capire senza dirtelo in faccia, le riflessa negli occhi, le riscritte negli anni più germi di una storia che sto a definire. No, tu non l'hai, tu non l'hai, tu non l'hai, tu non l'hai capito, no, tu non l'hai, tu non mi hai capito mai. Sperta a dirte le faccia, le riflessa negli occhi, le riscritte negli anni più germi di una storia che sta a definire. Come un film d'autore, ho una canzone che se ne vale